Parliamo ora invece di incidenti sul lavoro. Il Molise rientra nella zona rossa, quella cioè dove l'incidenza di morti bianche ogni milione di abitanti è superiore alla media nazionale secondo il rapporto dell'osservatorio Vega che si basa sui dati dell'Inail. Nel corso del 2023 ci sono state cinque vittime, lo stesso numero del 2022, quattro in provincia di Campobasso e una in provincia di Isernia, agricoltura, industria e costruzioni settori coinvolti.